mi ascolti bene questo è un locale pubblico è vero e napoli è una città dalla proverbiale ospitalità ma c'è un limite a tutto io credo che nessuno qui gradisca la sua presenza quello che avete fatto ha causato troppa sofferenza per poterlo dimenticare faccia la cortesia se ne vada no signor Hitler non ce l'ho con lei ce l'ho con lui no Ado non abbiamo esagerato tu non hai idea di che passata imbarazzante c'hanno quelli là brutta gente via 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 via